Allora, iniziamo ufficialmente la manifestazione con l'entrata del versillo sezionale per gli onori. Alpini, attenti. Onori al versillo della sezione di Bergamo. Alpini, attenti. 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 attenti. Alpini, attenti. Alpini, attenti. 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 Alpini, attenti. attenti. Alpini, attenti. attenti. Allpini, attenti. Allpini, attenti. attenti. Alpini, attenti. Allpini, attenti. Grazie 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 Andiamo avanti Sì Aspettiamo gli alpini Gli alpini oggi sono tanti qui a Morlico a serio Ha voluto rendere omaggio al coraggio e alla volontà di questo gruppo Di formare il 275esimo gruppo della sezione di Bergamo Ultimo gruppo nato della sezione e ultima fanfara nata della sezione di Bergamo La fanfara di Alzano San Paolo Un applauso Diretta dal maestro Silvano Brusetta Sempre presente Avanti gli alpini aspettiamo anche la popolazione Sì sì aspettiamo che arrivi anche la popolazione perché siamo un attimino in anticipo Grazie 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 Quando siamo pronti, facciamo la deposizione della corona in onore ai caduti. Alpini, attenti! Onore ai caduti! Alpini, attenti! Alpini, attenti! Alpini, attenti! Alpini, attenti! Alpini, attenti! Possiamo fare un applauso per questo gesto dovuto ai caduti della patria. Alpini, attenti! Alpini, attenti! Allpini, 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 attenti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.